E' stato un regalo di Natale posticipato, quello consegnato ieri sera, nella sede del Centro Antiviolenza Riscoprirsi di Andria. Il gentile omaggio delle artigiane dell'Associazione Tutti Giù per Terra, che hanno donato alcuni corredini per neonati, lavorati all'uncinetto e ricamati a mano. Due copertine in lana e due lenzuolini, destinati ai bambini, delle donne ospiti del centro. Il risultato finale di un progetto dedicato ai lavori a maglia, partito nel novembre scorso, è proseguito con dei laboratori organizzati nel centro commerciale Mongolfiera. Abbiamo delle persone in difficoltà, delle donne in difficoltà, per cui abbiamo pensato a dei bambini, quindi a delle donne incinte praticamente, e abbiamo pensato di realizzare questi corredini. E quindi, siccome abbiamo un gruppo di artigiane, c'è la signora che fa l'uncinetto e abbiamo pensato di realizzare delle copertine in lana. Ci sono le signore che realizzano ricami e per cui anche dei lenzuolini ricamati. Questa sinergia di persone, abbiamo realizzato le due copertine, i due lenzuolini. Penso che saranno donati a Patrizia, insomma, e provvederà lì, naturalmente, saprà a chi donarli. Un segno tangibile di vicinanza da parte dell'associazionismo locale verso quelle realtà, come appunto il Centro Riscoprirsi, che offrono supporto e assistenza alle persone, principalmente donne e minori, che subiscano una qualsiasi forma di violenza.